Ciao ragazzi, in questo video vi mostrerò come vedere la richiesta di amicizia inviata. Quindi, cominciamo. Per prima cosa assicurati di aver scaricato l'applicazione Facebook e poi semplicemente aprila. Dopo aver toccato l'applicazione Facebook, ti indirizza qui sulla home page di Facebook. Qui il ragazzo. Come puoi vedere accanto all'icona o nell'angolo in alto a sinistra, basta semplicemente toccarlo. Come puoi vedere ti indirizza qui, poi qui il ragazzo tocca semplicemente lo spettacolo, tutto come puoi vedere. Come puoi vedere, ti indirizza qui e poi qui, basta semplicemente toccare l'icona con i tre punti nell'angolo in alto a destra, quindi, come puoi vedere, la visualizzazione della richiesta inviata è sufficiente toccarla. Come puoi vedere, ti indirizza qui nella richiesta di amicizia inviata dal ragazzo, tutto qui. Grazie per aver guardato. Grazie. 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 Grazie.